E di un morto e sette feriti, tutti con prognosi di 25 giorni al massimo, il bilancio dell'incidente stradale che stamani, alle 7.25, ha coinvolto sette veicoli lungo la carreggiata ovest della superstrada Ascoli Mare, fra Castel di Lama e Maltignano, all'altezza del chilometro 8. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Ascoli, tutto è cominciato quando un furgone ducato adibito al trasporto di giornali ha tamponato violentemente un autocarro Mercedes, perdendo parte del carico e pezzi di carrozzeria, che si sono dispersi sull'asfalto ostruendo il transito. C'è stato quindi un secondo tamponamento a catena fra cinque auto, fra le quali una Opel Corsa, a bordo della quale viaggiava Luigi Martoni, 32enne, residente a Fermo. L'uomo, dipendente del laboratorio analisi dell'ospedale Fermano, è morto sul colpo. Per estrarre i feriti dalle lamiere e rimuovere i veicoli, è stato necessario chiudere fino alle 10.30 il raccordo ad altezza dello svincolo di Castel di Lama, con la deviazione del traffico lungo la superstrada 235 e l'asse attrezzato. Sul posto hanno operato quattro pattuglie della stradale, vigili del fuoco, ambulanze del 118, mezzi dell'ANAS, della Questura e del nucleo radiomobile dei Carabinieri. Ennesimo incidente che pone ancora degli interrogativi sulla sicurezza dell'asco di mare e sull'estrema velocità a cui viaggiano i veicoli che vi transitano.